Cari amici del web, prima di tuffarci nella storia che vi porteremo oggi, vi invito a cliccare sul pulsante di iscrizione e ad attivare le notifiche, per non perdere mai le ultime notizie. Se apprezzerete il video, lasciate un mi piace e condividete i vostri pensieri con noi nei commenti. Il vostro sostegno è molto apprezzato. Grazie di cuore. Oggi parliamo di un protagonista del mondo dell'arte e del cinema italiano, Alessandro Gassman, nato a Roma nel 1965. Alessandro è figlio del rinomato attore italiano Vittorio Gassman e dell'affascinante attrice francese Juliette Meignel. Alessandro ha vissuto una difficile separazione dei genitori all'età di soli tre anni, un avvenimento che ha segnato profondamente la sua vita. In diverse interviste, incluso quella rilasciata al Corriere della Sera, l'attore ha parlato del suo turbolento passato, descrivendo se stesso come un pacco in viaggio tra i genitori e descrivendo la figura paterna come ingombrante ma allo stesso tempo imponente. Recentemente, però, un evento ancora più sconvolgente ha colpito la vita dell'attore. Juliette Meignel, la madre di Alessandro, è deceduta a 87 anni. Nonostante il profondo dolore, Alessandro ha avuto la forza di condividere il lutto con il mondo attraverso un toccante messaggio sui social media. Le sue parole, ricche di affetto e dolore, sono state accompagnate da fotografie che ritraggono momenti sereni vissuti con la madre. Non ci sei più. E ci sarai sempre. Ti voglio bene. Buon viaggio, mamma. Meignel, nata nel 1936, è stata un'attrice di talento e una donna dai molteplici interessi. Oltre ad essere madre di Alessandro, ha avuto una ricca carriera artistica, premiata con l'Orso d'Argento, al Festival di Berlino nel 1960. Nonostante la separazione con Vittorio Gassman, il legame tra madre e figlio è sempre rimasto forte. Nei suoi ricordi, Gassman ha spesso parlato di sua madre con grande amore e ammirazione. «Non ho mai occasione di parlare di mia madre», ha detto un giorno all'intervistatore del Corriere della Sera. «Mi chiedono sempre di mio padre. Ma mia madre era di una bellezza fuori dal comune. Attrice calta ancora oggi, quando metto una sua foto sui social. Spopola». E in un'altra occasione ha aggiunto «Forse è la più artista di tutta la famiglia». Ed ora vorremmo sentire i vostri pensieri su questa tragica notizia. Vi preghiamo di condividere i vostri commenti qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati. Grazie per aver guardato questo video.